salve a tutti friends al vostro supercorris eccoci qua ragazzi oggi parliamo della classifica piloti e daremo un voto ai piloti per questo inizio di stagione tre gare è chiaro che non si può giudicare una stagione in sole tre gare però è anche chiaro che possiamo renderci conto di un discorso semplicissimo ovvero ci sono piloti che hanno deluso piloti che si sono confermati quando abbiamo fatto il rating di inizio stagione se vi ricordate andatelo a recuperare io vi dissi questi sono voti e valutazioni che poi possono cambiare anche dopo poche gare adesso dovessi rifare quel rating ragazzi cambierebbero completamente i giudizi soprattutto su gente come le clerche e cose varie però parliamo dei piloti parliamo dei piloti che hanno preso parte a queste prime tre gare ci sono tante conferme tante delusioni e delle sorprese come al solito prima di partire a bomba con le pagelle vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali lasciate un like seguitemi sui miei social sul canale telegram dell'offerta super corris offerte amazon dove vi metto tutti i giorni migliori offerte di amazon in ambito tecnologia e videogiochi c'è fruit lab c'è il canale viola c'è il canale gruppo telegram super corris 84 per gli iniziante primi sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sui canali e parlare con me gli altri ragazzi qualsiasi argomento e c'è la mia raccolta fondi super corris and friends potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza basta un euro a fine mese farò una donazione con un ringraziamento sui post come quello che è uscito ieri con nome e cognome di chi ha donato allora ragazzi partiamo subito con nick devries che è ultimo in classifica zero punti raga faccio fatica adesso a intravedere in devries il fenomeno che tutti citavano l'anno scorso io non lo conoscevo perché la formula e non la seguo le categorie inferiori non le seguo molti hanno detto eh corra però devries questo è un fenomeno quando arrivò in formula 1 a monza per sostituire albon e fece una gara sontuosa ottenendo una grande zona punti vi dissi io cazzo questo forse veramente un pilota bravo non un fenomeno sicuramente ve l'ho sempre detto se no non sarebbe arrivato in formula 1 a 26 27 anni però poteva dare un buon contributo beh raga dopo tre gare non sono giudizi definitivi sicuramente perché io sono uno molto ponderato in quello che dico però ci sta anche da dire che è deludente zero punti quando sunoda gli è stato costantemente davanti non è un grande risultato sono deluso mi aspettavo qualcosa di più da nick devries vedremo se si recupererà durante la stagione guido una macchina sicuramente non buone in questo momento però almeno davanti al tuo compagno di squadra ci devi stare non stiamo parlando di di verstappen stiamo parlando di sunoda vedremo sarjan sarjan voto 4 perché non mi è piaciuto manco lui sono deluso sono deluso perché sarjan altro pilota che sta dimostrando come alla fine magari gli sponsor continuano più di un'effettiva bravura in pista pilota assolutamente mediocre per ora non sta facendo niente di che tanti casini tanti errori non mi sta piacendo poi ripeto può sbocciare pure lui però abbiamo visto una tradizione americana di piloti in formula 1 negli ultimi anni non è celsa e quindi lui potrebbe seguire lo stesso filone speriamo di no perché avere un pilota statunitense bravo comunque sarebbe buono per tutto il movimento statunitense che segue la formula 1 però ad oggi questo qua non sta dimostrando più di tanto Alex Albon voto 6 per il semplice motivo che comunque ha smasso la classifica con un punto ottenuto alla prima gara mi ha deluso perché in australia poteva prendere un'ottima zona punti dimostrando che la williams è viva nonostante gli enormi limiti economici e che lui è un buon pilota perché Albon quest'anno cercherà di rilanciarsi per un team migliore ah queste qualità le ha dimostrate l'anno scorso purtroppo l'errore in australia un errore banale e che ha fatto lui lo rimette un po' indietro capite che non è facile per quando fai un errore del genere però c'è anche da dire che Albon secondo me ha le caratteristiche per fare una buona stagione quest'anno perché lo sto vedendo in forma maturato un pilota sicuramente diverso rispetto a quello che faceva in Red Bull però deve reagire subito perché ragazzi non ti aspetta nessuno in Formula 1 Kevin Magnussen Kevin Magnussen voto 5 deludente a netto di un punto preso è una delusione in questo momento sempre palesemente dietro Wurkenberg quindi un ex pilota che torna a correre pensate un po' a voi non sta facendo sicuramente la stagione che ci si aspettava da lui deve reagire deve reagire perché così si gioca quanto di buono fatto l'anno scorso durante una stagione dove è tornato a correre dopo essere stato fermato per un anno ed ha fatto grandi risultati a fianco di Schumacher demolendo un pilota giovane che è in rampa di lancio non sta facendo una buona stagione ad ora deluso Yuki Tsunoda voto 6 beh voto 6 per il semplice motivo che il punto che ha Alfa Tauri è suo l'unico punto in classifica ha battuto praticamente sempre De Vries Tsunoda ragazzi un minimo è maturato ma questo rimane comunque un pilota oltre che ad avere tanti problemi perché è uno di quelli che poi fa casino sempre è un pilota che secondo me quel salto di qualità non te lo farà mai buon pilota niente di più pilota che può crescere sì sicuramente ma io credo che questo abbia proprio dei limiti caratteriali che ne vanno a intaccare poi l'ascesa in Formula 1 si parlava di lui in Red Bull ming ragazzi c'è una miseria però intanto sta davanti a De Vries ed è un buon risultato quindi ad oggi la sua stagione è positiva al netto di una macchina che sta andando male Guanyu Zhu voto 6 grande grande ultima gara due punti smuove la situazione in Alfa Romeo è chiaro che mi sembra più in forma Zhu che Bottas lui sicuramente sta facendo una grande stagione perché si deve confermare sta facendo una grande stagione è partito bene in questa stagione può fare una grande stagione nei confronti del compagno di squadra che già si sta dimostrando in disarmo nelle ultime gare non a caso ha preso comunque due punti nel caos australiano mentre Bottas non è riuscito ragazzi dai ci si aspettava di lui fosse soltanto un pilota pagante non è così non è sicuramente un fenomeno capiamoci però da quello che sta dimostrando in questa formula 1 ci può stare Pierre Gasly Pierre Gasly gli potevo dare tranquillamente un 8 un 8 anche barra 9 per un inizio di stagione clamoroso ed invece mi trovo qui a dovergli dare un semplicissimo 5 perché è partito bene ha fatto comunque due noni poste nelle prime due gare non è riuscito a stare davanti a Ocon a Jedda ma va bene dobbiamo anche capire quanto il team gli abbia permesso di lottare però ragazzi male quello che è accaduto in Australia io do la colpa a Ocon pure lui chiaramente ha fatto un errore uscendo di pista e rientrando se ci fosse stato quel quinto posto ragazzi staremmo parlando qua di 10-12 punti in più che farebbero la differenza e nel costruttore per l'Alpin e nella sua classifica lo vedrebbero davvero nella top lo vedrebbero ottavo in classifica quindi avrebbe fatto un balzo di qualità enorme cioè non toglie che sta facendo una grande stagione in un team francese che ha il potenziale Gasly può crescere bene può battere Ocon perché secondo me a livello di talento tra i due non ci sta a paragone Gasly nettamente meglio di Ocon dispiace dispiace per l'Australia per il caos generato dai giudici di gara perché meritava un voto sicuramente maggiore però il potenziale per fare benissimo ci sta tutto quanto Oscar Piasti Oscar Piasti 6 perché è riuscito a smuovere la classifica con un ottavo posto in Australia però ragazzi a sto pilota mi aspettavo decisamente di più visto che tutti lo sannate come un fenomeno io non ho visto questo fenomeno nelle prime gare ho visto un buon pilota tanti errori tante problematiche anche non dipese da lui però i fenomeni ragazzi sono altri può sbocciare sì può essere un pilota forte sì ma ad oggi è un pilota che ha fatto un esordio come tanti altri quindi da qui a definirlo fenomeno andiamoci piano lo dobbiamo valutare durante la stagione non mi è entusiasmato sì quattro punti un ottavo posto presi grazie al caos se no non l'avrebbe presi neanche lui Esteban Ocon voto 5 voto 5 perché Ocon ragazzi è un pilota scarso e riesce ogni volta a litigare con i compagni di squadra a prescindere dalla nazionalità a prescindere da tutto è un pilota a me non mi piace non a caso quattro punti anche lui se fosse stato più furbo e non avesse speronato Gasly perché è stata la sua cocciutaggine a speronare Gasly bastava frenare un po' continuare la gara e arrivava dietro e prendeva tanti punti pure lui quindi una botta per Alpine non indifferente e Ocon è un pilota mediocre ragazzi un pilota che non ha le stigmate del campione non l'avrebbe lasciato scappare Mercedes così tranquillamente quindi pilota normale vedremo cosa accadrà Valtteri Bottas voto quattro male 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 l'ottavo posto in Barenna aveva illuso di un Bottas che poteva ripetere l'inizio di stagione clamoroso dell'anno scorso ed invece poi se ne è calato completamente un pilota scarso purtroppo la realtà è che Bottas è scarso il miglior Bottas l'abbiamo visto in Williams quando è riuscito a esprimere se stesso in Mercedes abbiamo visto un pilota che ha vinto quello che ha vinto con una macchina con cui avrebbe vinto chiunque pure pure Latifi avrebbe vinto con quella macchina quindi un pilota scarso un pilota demotivato un pilota che non sta dando niente a un team che l'ha preso per dargli qualcosa in più ragazzi questo ma anche quando succede un disastro si prende la zona punti come si deve fare cioè io penso che anche Alfa e futura Sauber Audi dovrebbero rivalutare la sua posizione perché un pilota così demotivato in pista non ti dà niente assolutamente Leclerc voto 4 male 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 lo salvo per la prima gara perché comunque prima gara lui ha preso un si è ritirato quando era terzo però bisogna anche capire ragazzi quanto ci sta di Leclerc nel ritiro quanto è Leclerc che spreme troppo la vettura questo dobbiamo capire e ad oggi non si riesce a capire perché nessuno te lo dice è chiaro che si fa sbattere davanti a una strategia sbagliata Jedda e quindi fa sempre il solito errore arriva dietro Sainz senza attaccarlo mai un pilota veramente furente si trova dietro il compagno di squadra avrebbe fatto il diavolo a 4 ci stava Mansell lo avrebbe asfaltato Leclerc che fa una gara mediocre dietro Sainz e il ritiro senza senso in Australia per un suo errore grave dopo che aveva sbagliato anche in qualifica perché se Leclerc in qualifica fa un solo giro non riuscendo a migliorare il proprio tempo è colpa sua non è colpa di nessuno ragazzi Sainz è stato più furbo Leclerc no quindi come si fa a giudicare positivamente in inizio stagione di Leclerc chi lo fa vuol dire che è gente che deve per forza leccare la Ferrari ma qua non siamo su quei tipi di canali qua siamo su un canale che giudica quello che vede Leclerc si macchina indecorosa problemi su problemi però tu devi massimizzare se tu fossi arrivato sempre in zona punti allora potevi dire tutta colpa del team così è colpa anche sua perché gli errori li ha fatti anche lui Nico Hulkenberg voto 7 beh ragazzi pensare a un inizio stagione così spumeggiante di Hulkenberg non era facile 6 punti comunque sempre buono anche in qualifica questo è il risultato di un pilota motivato quando un pilota è motivato e torna a correre dopo tanto tempo riesce a sopperire anche mancanze magari di guida che potrebbe avere con l'inattività bravo 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 devo dirvi la verità l'operazione nostalgia di Ass ha funzionato di nuovo Lando Norris voto 6 voto 6 semplicemente per la tenacia e l'impegno che ci sta mettendo un pilota che potrebbe aspirare a tutti i top team perché Norris ragazzi ha le qualità per giocarsela alla pari con i più forti e secondo me probabilmente è superiore anche a Russell pensate un po' voi un pilota straordinario ha dimostrato il suo valore nelle gare passate purtroppo è esiliato in McLaren con un contratto ottimo perché prende 20 milioni di dollari all'anno però con una macchina che non gli permette ad oggi di lottare per niente 8 punti frutto di una gara che ha visto escludersi tra gli altri in Australia se no non sarebbero arrivati ma che futuro ha Norris in questo team secondo me qualcuno ci può fare un pensierino perché questo è uno che nei top team ti fa la differenza George Russell George Russell voto dai 7 perché spesso e volentieri l'abbiamo visto fare bene è arrivato dietro Hamilton in Bahrain è arrivato davanti a Jedda quindi facendo una grande gara corposa purtroppo si è ritirato quando stava facendo un'ottima battaglia in Australia il pilota c'è ragazzi il pilota è vivo il pilota sta facendo buone cose è un pilota che sta mettendo in difficoltà Hamilton più volte sintomo che ha del talento quindi vedremo se non si fosse ritirato in Australia avrebbe incamerato diversi punti che l'avrebbero messo molto più in alto in classifica è chiaro che primo problema di affidabilità di un motore Mercedes non mi ricordo da quanti anni però Russell è un pilota corposo e che può dare fastidio a tutti Lance Stroll voto 5 voto 5 perché ragazzi è quanto più lontano possibile da Lonzo ottimo sesto posto la prima gara quando aveva ancora i polsi rovinati e problematici sì però dopo ritiro per motore a Jedda ma quando era lontanissimo non si capisce qua come l'hanno fatto a classificare vabbè ragazzi non c'ho parole vedere cioè qua vedo quarto io qua vedo quarto in Australia c'è andato lungo andato lungo porco zio vabbò non c'ho parole ragazzi non c'ho parole boh le ruberie Aston Martin quest'anno riescono di rovinare anche il blasone di Red Bull e Mercedes in quest'ambito non ne voglio parlare stroll pilota comunque scarso orientativamente Carlos Sainz voto 6 perché perlomeno lui ci ha messo la convinzione perlomeno lui ci ha messo l'impegno perlomeno lui è stato lucido in fase di gara dove Leclerc non lo è stato la prima gara arriva comunque quarto lontano dal podio però probabilmente ha anche gestito un po' meglio la macchina arriva sesto battendo Leclerc a Jedda un Leclerc che non lo attacca mai quindi lui comunque riesce ad arrivare una posizione avanti al compagno di squadra e senza la partenza vergognosa il fattaccio dell'Australia che è una vergogna una macchia per tutta la Formula 1 sarebbe comunque tranquillamente arrivato quarto avrebbe incamerato 13 punti che lo vedrebbero a 33 e quindi agganciato al trenino degli Alonso degli Hamilton quindi non è colpa sua l'errore era fatto sicuramente però è un errore dovuto a un caos che si è generato quindi si poteva evitare un pilota che al contrario di Leclerc sta parlando di me in questo momento sta facendo parlare la pista e la pista dice che si sta comportando bene perché è un pilota più costante è stato più lucido anche nelle strategie è stato più lucido il sabato in Australia quando ha deciso di fare il giro di prova e di riscaldamento e poi il giro lanciato quindi un pilota ragazzi che nonostante sia meno veloce di Leclerc rischia di arrivare davanti in classifica per la costanza come è successo tante volte nel mondiale i Prost hanno vinto i mondiali contro i Senna con la costanza i Licky Laudio hanno vinto i mondiali contro all'epoca i James Hunt e gente che era più veloce con la costanza questa è guagliò Lewis Hamilton voto 7 buon inizio di stagione sempre in zona punti comunque massimizzato e qua vi dico questa è la differenza tra Hamilton e Leclerc Hamilton si è lamentato dell'auto non si trova bene con l'auto però i risultati erano ottenuti quinto quinto secondo ha sfruttato l'occasione che poteva sfruttare Leclerc in Australia questa è la differenza tra un campione già affermato e uno che vuole diventare campione ma che oggi non lo è lo sfruttare la situazione anche quando le condizioni non sono al top Hamilton comunque è riuscito a prendere punti sempre facendo un'ottima prima parte di stagione quando Leclerc invece il più e più delle volte ha fatto degli errori gravi grandissima parte di stagione di Hamilton che è comunque lì attaccata al trenino dei migliori ad oggi anche se lo vedo in difficoltà è impossibile che possa lottare per il mondiale in tanti ci sta quindi vedete ragazzi Hamilton costante corposo e porta il risultato a casa Alonso voto 8 perché 3 terzi posti 45 punti in classifica vanno oltre le più rose aspettative è chiaro ragazzi che Alonso sta facendo una grande stagione sempre a podio con una macchina che gli permette di fare quello che sta facendo però c'è anche da dire ragazzi che continua a mostrare tutti i limiti di un'età che non può nascondere in qualifica sempre dietro non riesce mai a sbettare e questo è un problema perché quando tu parti dietro e ti ritrovi sempre invischiato nei casini devi superare e poi è problematica la situazione se lui volesse vincere gare e provare a inserirsi minimamente nella lotta per il mondiale deve comunque cercare di migliorare la qualifica in gara poi è costante però senza grandi guizzi di prestazione parte terzo e lei l'abbiamo visto in Barenna recuperato ma aveva una macchina nettamente superiore alle altre l'abbiamo visto a Jedda arrivare terzo e non riuscire ad opporsi in nessun modo neanche a Versailles mentre in Australia non fare un tentativo di sorpasso su Hamilton che c'è a meno di un secondo ci fa capire come un po' di verve si è persa la Lonzo di prima non era proprio così però comunque prima parte di stagione eccezionale Sergio Perez votò 8 perché il suo l'ha fatto secondo nella prima gara primo nella seconda e purtroppo chiaramente ha dovuto fare una rimonta che non è mai facile in Australia il suo l'ha fatto ragazzi ha fatto una prima parte di stagione comunque ottima è arrivato sempre ha vinto una gara che gli si deve dire questo è un pilota che non è costante durante la stagione minimamente ma i suoi risultati li ottiene quindi quest'anno è molto probabile che Red Bull riesca a fare una doppietta nella classifica piloti cosa che gli è sempre mancata perché Perez con una macchina che è guidabile anche per lui i risultati li sta ottenendo e quindi dai fronteggia questi qua che combattono a due punte e hanno due piloti che sfruttano al meglio la macchina quando la macchina va bene per tutti ragazzi Red Bull non sempre l'ha fatta chissà se vuole la Formula 1 lo sa ti permette di ottenere due piloti davanti Max Verstappen voto 9 due vittorie un secondo posto che gli si deve dire ragazzi piccolo errore in Australia ma niente di che guida una macchina che è una un missile aterrare il team è per lui cioè ragazzi cosa poteva fare di più sì vincere anche magari a Jedda ma per anche dei piccoli errori suoi piccoli problemi tecnici non l'ha fatto ma un pilota ragazzi vi dico già che il mondiale è bello che è andato mettiamoci l'anima in pace vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione in Ferrari da dietro perché Verstappen ha la massima maturità è il pilota che ha più velocità è il pilota a parte in qualifica qualche volta è il pilota che ha una maturità giusta per vincere per dominare è un pilota talmente cattivo e freddo che anche se fa delle piccole sbavature le recupera tranquillamente è un pilota ad oggi imbattibile questa è la verità ciao agliò